Ragazzi, la Matrix non è un'illusione come dicono alcuni guru, una gabbia, i ratti, quelle cose lì che corrono sulla ruota del criceto, raga. La società è un sistema costruito più o meno bene da persone che ci hanno preseduto, punto. Matrix, illusione, cioè questi mix di concetti incasinati non hanno molto senso, ok? Poi, da un punto di vista spirituale, qualcuno che ci è arrivato, raga, che ci è arrivato con le sue forze, che ha capito che forse il mondo, la vita è un sogno, ma a noi non ci interessa. Cioè, è come dire, io credo a qualcosa che non so, sono pazzo. Cioè, se io mi butto dalla finestra, mi spacco la testa, è un sogno, non è un sogno, in un sogno non ti succede niente perché ti svegli, qua ti spacchi la testa, ok? Quindi, non è un sogno, un'illusione, è così e basta, ok? Bene, quindi, credere a tutti questi guru che stanno lì a blaterare largamente, non dico che siano completamente fuori, ma quello che dicono non serve a niente, non risolvi i problemi del mondo, non risolvi i tuoi problemi, non ti aiutano, non ti dà una mano, anzi, ti impalla il cervello. Raga, ti impalla il cervello. Credere a queste minchiate, ti impalla il cervello, non serve a niente, ok? Scusate, sono un po' scontroso, ma le informazioni andrebbero date a dosi e dovrebbero essere anche corrette. Dire cose che hai sentito in un altro video di YouTube è diventare un guru di non si sa cosa. Se vai a lavorare, impieghi le tue forze al servizio di un'azienda che crea un prodotto, un servizio per altre persone, cioè niente più di questo. La società è fatta di edifici, di persone, di situazioni, più o meno, non è un'illusione, un metric, queste minchiate qua. La vera metric, poi questo che mi interessa, è semplicemente fare quello che ti dicono di fare, come questi guru, ti dicono una roba e tu ci credi. Qualcuno ti dice di fare una roba e la fai. Non pensi mai, non ponderi mai e non cerchi la verità della vita, quindi non cerchi le informazioni vere. Quella è la vera metric, cioè la metric è fare o per paura o per pigrizia mentale o per carenza di informazioni, perché a volte può succedere a tutti di magari credere a qualcosa che non sta né c'era né in terra, e agire in base a quella roba lì. Quindi se io credo che tutto è un'illusione, vivrò come un deficiente probabilmente. Come posso vivere? Non mi importerà di nulla, penserò a robe assurde, mi butterò, mi drogherò. Non so cosa fanno queste persone, secondo me non fanno nulla se non stare lì a parlare del niente, largamente. Scusate, ma questo è secondo me. Quindi se io ti dico una roba e tu ci credi, e non sai se è vero o se è falsa, quella è la vera metric. Perché la mente ha un grande problema, cioè per come è fatta, non sa che cosa è vero e che cosa non è vero. Quindi se tu credi a qualcosa che non è vero, vivrai in accordo con quella cosa non vera e vivrai lì in una metric, se non nella realtà. Cioè il fatto di non sapere certe robe, non avere certe informazioni o cogliere la realtà dei fatti per ciò che è, come pensare che è tutta un'illusione, che tutto è controllato, che tutto è destra e sinistra, queste robe qui, no? Che in parte, ripeto, possono essere anche vere, ma chi se ne frega da un certo punto di vista? Cioè non cambiano nulla e non portano alcun beneficio, questo dico io. Se si trova la verità, se si comincia a usare la mente nel modo giusto, avere le informazioni nel modo giusto, a usare, a essere felici per quello che si ha, per quello che si è, a fare le azioni giuste rispetto a ciò che è, quello è uscire dalla metric, ma è semplicemente un atto di sanità mentale, ok? Non è necessariamente pensare di vivere dentro qualcosa che è così ingegnato come credete, non è così, raga. Anzi, probabilmente, spesso la confusione di questi video crea più problemi che non vivere nella metric, vivere tra le persone normali, uscire al bar, prendere un caffè, andare a lavorare, avere una famiglia con i figli. Ripeto, può essere per vari motivi, specialmente questi mentali, ovvero non sapere come creare felicità mentale, per questo esiste lo yoga, esiste la psicoterapia, esistono queste discipline a gradi sempre più vicini alla verità, al funzionamento della mente, per cui uno è felice anche essendo una persona normale, ma perché ha le informazioni giuste, quindi è una mente che funziona bene, non contro di sé, o che crede a robe che non portano a nulla, ma perché semplicemente aiuta a vivere una vita sana, equilibrata, piacevole, con eventi gradevoli, fondamentalmente bene da tutti i punti di vista, nostri e relazionali. Quello è uscito dalla metrics, che poi vivi nella società, o vivi un po' fuori, o vivi completamente isolato, se tu stai bene, metrics o non metrics, chi se ne frega, chiaro? C'è gente che vive nella società, e io sono contento per loro, che stanno bene, sono felici, hanno amici, hanno figli, hanno relazioni, hanno un buon lavoro, punto, basta. Ok? Poi, dei cavilli, di che lavoro fanno, di come sono le loro relazioni, di quale qualità è la loro mente, queste sono le cose più importanti. Cioè, la metrics è la mente. Come è la forma della tua mente? È così la forma della tua vita, fondamentalmente. Se tu pensi che vivi dentro un'illusione, ti stai illudendo del fatto che non vivi in un'illusione mentale. Tutti vivono in un certo tipo di illusione mentale, perché tutti hanno credenze più o meno giuste, tutti hanno idee del mondo più o meno giuste, tutti hanno stati d'animo fondamentale, come dico in altri video, più o meno sani, questa è la cosa più importante. Stai bene? Vivi in stati d'animo dalla pace in su? Questo è il punto. Chi se ne frega, metrics o non metrics? Se tu poi vuoi vedere, come... Vi dico questo e poi vi lascio perché è sufficiente e chiude veramente bene quello che ho detto. Se tu incontri qualcuno, chiunque sia, e cominci a guardare tutti gli errori che ha commesso, tutte le cose sbagliate che ha, tutte le cose che non vanno bene in lui, le troverai e dirai questa cosa è male, come la società. Se tu invece vai da una persona e vedi, o vuoi vedere, questo è il funzionamento della mente ragazzi, quindi state attenti, tutte le cose buone che ha, le qualità che ha, le cose buone che ha fatto, quanto è stato generoso e gentile con voi, come parla, come si comporta, che lavoro fa, le sue intenzioni nella vita, come spende il denaro, eccetera, eccetera. Se vai a vedere tutto nel senso, se uno potesse, lo trova. Se uno vuole pensare il male, lo trova. Se uno vuole pensare anche il bene, lo trova. Per esempio, molte dicono che tutto è Dio, quindi anche metrics è Dio. O no? Non dicono anche questi, New Age, quindi... Qual è il senso? Il senso è che tutte le cose hanno lati positivi o lati negativi, e lati negativi. Anche io ce li ho, tu ce li hai, la tecnologia ce li ha. Tu puoi guardare questo video, altri video, farti una cultura, trovare un lavoro, crearti un lavoro, oggi come oggi, ok? Fare denaro, incontrare persone e relazioni meravigliose su internet, oppure puoi ridurti a fare una vita chiuso in casa, non uscire, non avere relazioni, che per forza è una cosa sbagliata, ma nel senso, rimanere a giocare tutto il tempo ai videogiochi o infottarti nella tecnologia, usare la tecnologia in modo sbagliato. La tecnologia, come la società, come gli strumenti, come la vita, dipende come la vuoi vedere anche, molto, e come la usi, ok? Quindi, quando qualcosa ha un lato negativo, si può smussare. La società ha molti pregi, ragazzi, eh? Non viviamo più nelle foreste a cacciare i mammut, il che non è per forza un male, no? Magari saremo meno forti e questo non è un bene. Vedete, è complesso, non è tutta l'erba un fascio. Vivere in case riscaldate è un pregio, è una cosa bella, ma saremo meno forti dei nostri antenati. Cioè, tutto, vedete, ha un pregio, un difetto. Quindi, come dico spesso, perché il discorso si può ampliare, può diventare molto complesso, per quanto io penso che un'intelligenza media riesce ad arrivarci bene, se gli interessa, che l'equilibrio è la soluzione. Una società equilibrata, un uomo equilibrato, una vita equilibrata, relazioni equilibrate, ok? Fondamentalmente, e questa è poi la cosa più importante, il benessere o la felicità non è che un certo stato di equilibrio. Equilibrio tra opposti. Quindi ci può essere un problema nella nostra società dove ci si sente oppressi e schiacciati, sì, ma la nostra società è sicuramente una sorta di perfezionamento del vivere in comunità. Ci sono i bar, ci sono i supermercati, c'è l'industria, c'è l'industria alimentare, organizzata, che quindi riesce a creare cibo in maniera veramente incredibile, no? D'altra parte, ci sono degli eccessi, ragazzi, e quelli ci sono dappertutto, dappertutto, ok? Perché la nostra società non è equilibrata, ma è il tentativo umano di creare qualcosa di buono. È così. Una persona che è molto rabbiosa può avere di fondo intenzioni molto buone. Io mi arrabbio perché vorrei che tu fossi felice, mi arrabbio perché vorrei che il mondo fosse un posto migliore, mi arrabbio che la rabbia non è un buon strumento, ma l'intenzione è positiva. Quindi bisogna anche riconoscere che questa matrix non è del tutto sbagliata, come non è del tutto giusta. Bisogna solo col tempo trovare il modo di armonizzare le cose in disequilibrio che non funzionano bene, ok? Io andrei avanti all'infinito perché posso fare tanti di quegli esempi che... Ma tu stesso li puoi fare se ci pensi un attimo e dici, vabbè, aspetta, io ho tanti lati positivi, però ho anche dei lati negativi. Se armonizzassi con i lati negativi troverai magari più soddisfazione nella vita. Se imparassi questo, se facessi questo, se smussassi quello, la nostra società è uguale, uguale. E tu pensi che tu prendi una persona qualunque nel popolo e la metti a governare non si comporta esattamente come si comportano le persone che stanno al potere adesso, uguale, se no peggio. Perché non hanno una visione d'insieme, non hanno le capacità o che so io. Quindi io non so come risolvono tutti i problemi del mondo, ma se tu puoi notare una cosa nel piccolo, sai già che l'hai capito anche nel grande. Quindi come un uomo ha un difetto e un piccolo difetto di un uomo non conta nulla, tanti difetti in un grande insieme sono più difficili da controllare e ovviamente sono più visibili. Ma tutti hanno difetti, ragazzi. Il mio gatto ha difetti, io ho difetti, la mia tv ha difetti e può essere migliorata, tu hai difetti, tutti hanno difetti, tutti. Per esempio una persona troppo buona ha il difetto di non avere mai tempo per sé. non ha mai cose, e lo sa dentro di sé, ma è fatta così. Certe società sono fatte così, certe società sono completamente diverse. Penso alla società, perché anche quella è una società, le società orientali non guadagnano alcuni, vivono per strada, cercano di finire il primo possibile. Io non vedo l'ora di trascendere questa vita, non mi frega nulla, non hanno niente, perché secondo me è anche troppo. invece l'Occidente è troppo materialista, orientato sempre alle cose materiali, non ricerca mai le sue qualità interiori, ecco, due sistemi probabilmente giusti, ma con dei difetti, almeno per me. Troppo materialismo da una parte, troppo spiritualità dall'altra. Cioè che senso ha la vita se devi andartene? Perché vai a trovare un amico se non vi dirò di andartene? Perché vivi se non vi dirò di andare via da qua? C'è una bellezza nel vivere, ma c'è anche una bellezza nell'essere distaccati dalla vita. Ecco, questo può essere un equilibrio. Quindi, per chiudere, questa Matrix, questa società, ha dei lati positivi, come l'organizzazione spaziale, dei mezzi e dell'industria, della comunicazione, della tecnologia, ragazzi, della capacità di creare robe, di inventare, eccetera, ha dei difetti nei confronti del clima, della natura, delle, magari, spesso e volentieri, dell'equità, dei diritti di tutti, dei difetti di conoscenza, ci sono. Comunque, fino a 50 anni fa, ragazzi, tutto questo non c'era. nulla, niente. C'erano i trattori della Fiat e ci andavano in un campo se c'erano. Sono successe delle robe in pochi anni che sono straordinarie. Quindi, prima di dire che tutto quello che hanno costruito i nostri nonni è Matrix, ci vuole un po' di rispetto. Non dico che è tutto perfetto, perché non sarebbe giusto. Ok? O di leccare il culo a nessuno. Dico che è stato lo sforzo di persone che sono venute fuori da certe situazioni. C'era la guerra, c'era l'ignoranza, c'era tante situazioni che oggi vanno perfezionate e migliorate, ovviamente. In primis, io dico i diritti e le equanimità per tutti e il clima e l'ambiente. Tra un po' non c'è più la terra, ragazzi. Abbiamo fatto a pezzi le foreste, basta. Si sta allargando troppo. Ma era solo il tentativo di creare una vita comoda per tutti. Attraverso il lavoro, attraverso la tecnologia, l'ingegno, eccetera, il denaro. Questo dico. Quindi, dov'è sta Matrix? Dov'è? Cioè, se tutto questo, perfino questo cellulare, è stato creato dalla Matrix, vuol dire, non sarà proprio così una merda, ragazzi. Questo video, pure i video della Matrix, se li guardi dentro i cellulari creati nella società della Matrix, vuoi vedere tutti i lati negativi e vedi, ma in realtà c'è anche dei lati profondamente positivi. una buona ora che erano pensieri secondo che nessuno, è vero.